Allora, mi chiamo Ciotti Moreno e sono qui allo stand della CartFlow, padiglione D7, stand numero 170. Siamo venuti qui per presentarvi le pale One Shot della CartFlow, che sono le uniche pale nel mercato italiano. Le vengono fatte in un solo passo, cioè sono liberi di incollanti e sono composte di un pezzo solo. Perciò non c'è problemi di bubbling e problemi simili.